Il 14 settembre, Piazza 20 Settembre a Sulmona, ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di scacchi, il Festival Scacchistico Città di Ovidio. L'evento, organizzato da SD Sulmona Scacchi, con il padrocinio di FIDE, CONI e Città di Sulmona, in collaborazione con la Fondazione Carispac, si terrà dalle 15.30 alle 20.30. Durante il festival, i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a tavoli didattici con maestri di scacchi, dove potranno apprendere nuove strategie e migliorare le proprie abilità. Inoltre saranno organizzate partite simultanee con i maestri, offrendo la possibilità di sfidare esperti giocatori in un ambiente amichevole e stimolante. Perché desiderasse un'esperienza più interattiva, ci saranno tante scacchiere per il gioco libero, che permetteranno a tutti di divertirsi e socializzare. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, con la possibilità di iscriversi all'associazione direttamente in piazza.